buongiorno a tutti avrete sicuramente sentito parlare di bonus 110 per cento da ormai quest'estate ma avete capito o avete affrontato in fondo le possibilità che queste detrazioni danno potete rendere quindi più efficienti le vostre abitazioni e quindi diminuire poi i costi della gestione annuale della casa non tirando fuori volendo neanche un euro. Tra le opzioni sicuramente l'opzione più interessante è la possibilità dello sconto in fattura quindi direttamente senza pagare l'importo del lavoro se ne fa carico l'azienda che lo esegue e voi avete lavoro a zero. Cosa vi possiamo offrire noi come BF Clima? Noi come BF Clima possiamo darvi supporto e consulenza preventiva, esecuzione e realizzazione di tutti i lavori, espletamento delle pratiche e anche lo sconto in fattura. Si parla sempre di risparmio energetico e quindi si pensa solo alle detrazioni con un discorso economico ma il punto focale delle detrazioni è sempre anche la salvaguarda dell'ambiente quindi meno consumi vuol dire meno emissioni e quindi vuol dire un ambiente più sano.